Siamo davvero molto sereni, abbiamo lavorato tanto in queste settimane pur essendo partiti in ritardo rispetto agli altri. Abbiamo costruito un bellissimo progetto, un nuovo progetto politico, abbiamo un patrimonio di persone che si sono spese e che hanno creduto fino in fondo nella causa per cui per noi oggi inizia una nuova fase da cui si riparte. Assolutamente come sono stata abituata fino ad oggi quindi a lavorare in modo costruttivo porterò le mie proposte all'attenzione della maggioranza di chi sarà il governo di questa città con la speranza che possano essere accolte.